Ecco, mamma che meraviglia, e siamo all'interno verde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, questo giardino qua proviamo a farlo in questo modo, con il Pixel 7a. Adesso ho messo la stabilizzazione software, poi dopo proviamo invece a mettere la stabilizzazione solo hardware e aggiungere quella software in post. Ok, adesso c'è solo la stabilizzazione hardware del telefono, messaggio allo Stefano Futuro, metti la stabilizzazione in post. Va bene, insomma mi sono dimenticato la scheda SD nel computer, adesso andiamo a casa a prenderla. Ci sono un po' di zanzare. Grazie a tutti. 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 Salute. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.